Una casa come tante. Eric, hai fatto colazione a mamma? Sbrigati a fare tardi a scuola. Dove il passato vive ancora. Come possiamo aiutarlo? Siamo psicologi? No? Candidato al Festival Internazionale di Venezia. Quello che il bambino ha è una caratteristica piuttosto soggettiva. Quello dell'amico immaginare è un disturbo comune alla sua età. Ma la situazione è particolare. Walter Lippa, Pamela Formisano, Rico Femiano. Eric, perché non lo lasci andare? Bound, un film di Salvatore Maiorano. Dal primo ottobre, su tutte le piattaforme digitali.